A 24 ore dalla retrocessione in D, dopo tre stagioni tra i professionisti dell'alma Juventus-Fano, la domanda che per tutta la giornata è serpeggiata negli ambienti sportivi e tra la tifoseria più accesa, è stata una ed una solamente. Ma adesso il presidente Gabellini che farà? Lascia o rimane? La risposta è stata affidata in serata ad un comunicato stampa diramato dalla società, in cui il patron Gabellini saluta tutti e se ne va. Rimettendo virtualmente al primo cittadino di Fano le chiavi di una società calcistica sana, nonostante nel 2010 fosse sull'orlo del fallimento. Tralasciando ora e qui i motivi tecnici e societari che hanno portato a questo finale di stagione, che lasciamo elementi tecnico-calcistiche di cui abbondantemente in Italia e Fano non fa certo specie siamo dotati, che sapranno vivisezionare al capello ogni minuto dell'annata granata, ciò che interessa in questo ambito è l'aspetto umano-emozionale della vicenda. Come sugli spalti lo sono da sempre le due tifoserie più sfegatate, Ultrasfano e Panthers, separati in casa da tempo, tra pro e contro la dirigenza, ma uniti nella delusione per questa retrocessione, anche per strada e nei bar gli animi sono divisi in due, tra chi è per tutti a casa e subito e tra chi invece meglio feriti che morti, incoraggiando un presidente e una dirigenza che comunque hanno tirato fuori dalle secche del fallimento la società. Il Fano calcio ha una storia del 1906, 113 anni non è mai fallita, io mi auguro che non fallesca, anche perché è un vanto per noi, in Italia non ci sono tante squadre che possono vantare questo, poi se si ricomincia la Serie D mi dispiace, però si prende atto, se c'è la possibilità minima di una riammissione, io sono contento, poi ci è mancata sempre la punta davanti, che faceva che 3-4 gol in più salvavi, però i 6 ma non si dice, basta. Spero comunque che Gabellini tiri fuori tutto l'orgoglio che ha, in questo momento difficile, e continui l'avventura col Fano. Una speranza quella del capo degli Ultras che però non ha trovato conferme dal diretto interessato che dopo 8 anni di personale ed incondizionato sostegno economico ed organizzativo per la società, ritiene che il ciclo sia giunto al termine, come auspicato dalla fazione giustizionalista dei Panthers, comunicando la volontà di disimpegnarsi dall'alma a far data da oggi stesso.